Un ferito non grave, tanta paura, tragedia, sfiorata. Questo è il bilancio di un rocambolesco incidente stradale che si è verificato dopo le 10 di oggi in via Rabona, nei pressi della sede della giostra cavaleresca di Sulmona. A scontrarsi sono stati un'auto articolato, una Fiat Punto Rossa, che risulta particolarmente danneggiata a causa dell'incidente. Stando a una prima ricostruzione, sembrerebbe che il conducente nel mezzo pesante avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo contro l'auto in transito, probabilmente per le condizioni particolarmente scivolose dell'asfalto reso viscido a causa della pioggia. L'uomo ha cercato di raddrizzare il tiro, ma non è riuscito ad evitare l'impatto. Il conducente della Punto, dopo essere stato soccorso prontamente, è finito in ospedale. Era cosciente al momento dell'impatto, anche se sotto shock. Per rilievi di rito sono intervenuti i carabinieri. Sul posto anche i vigili del fuoco, polizia, ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale. Tanta paura, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte.